Oggi 25 gennaio, come ogni 25 del mese, la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quante più anime possibili. Perciò voi veliate nella preghiera e siate decisi nel bene. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benzione materna. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Grazie per la visione.